Era visibile ancora questa mattina anche dal lungomare di Napoli la lunga colonna di fumo nero sprigionata dalle fiamme che la scorsa notte hanno distrutto il campo nomadi di via Mastellone nel quartiere Barra della periferia orientale della città. Per conoscere le cause bisognerà attendere le verifiche dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle prime ore del giorno per spegnere l'enorme incendio che ha lasciato senza casa più di 150 persone. Solo per casualità non ci sono state vittime. Il cattivo odore dei materiali andati a fuoco, plastiche e rifiuti si è diffuso anche nelle zone circostanti. Per motivi precauzionali è stata disposta la chiusura dell'uscita a Napoli sull'autostrada A3. Sul posto anche la polizia che ora indaga per risalire alle cause del rugo. Al momento non è esclusa la pista dolosa. Sul posto per aiutare e portare generi di prima necessità alla popolazione nomade che risiedeva nell'accampamento sono accorsi tanti volontari delle associazioni che operano sul territorio. Una scena apocalittica, bambini, donne anziane, gente ammalate che stavano sdraiate per terra, che piangevano e non sapevano da dove cominciare. Poi dopo un po' di tempo sono riuscito a calmare tutta la situazione e a rendermi conto di quello che era successo. Attualmente abbiamo portato insieme alla Carita, a stessi e altre associazioni, tutti più piccoli, tutte le persone un po' più fragili, presso un centro educativo, il centro colonna che è poco più sopra, stiamo dando da bere, da mangiare insieme ad altre organizzazioni che stanno organizzando il pranzo, ma possiamo tamponare in questo momento, c'è bisogno di un aiuto concreto per queste famiglie. Complice il periodo di campagna elettorale, i campi romo sono entrati di nuovo negli argomenti da polemica politica. Un'emergenza sociale da risolvere per il candidato sindaco di centrosinistra Gaetano Manfredi, mentre per Catello Maresca di centrodestra le colpe vanno attribuite all'immobilismo dell'amministrazione cittadina. Severino Nappi della Lega e Gabriella Peluso di Fratelli d'Italia ne chiedono la chiusura. Via i campi romo da Napoli e dall'area metropolitana. I campi romo contribuiscono ad alimentare l'illegalità, l'insicurezza, l'inquinamento ambientale, il degrado sociale. Le aree periferiche di Napoli, particolarmente i quartieri di Barra Ponticelli e di Scampia, hanno bisogno di lavoro, di sviluppo, di vivibilità.